Buonasera, ben ritrovati in un stato appuntamento con la voce delle istituzioni, è il piacere di avere in studio Mirko Badone che è deputato del Movimento della Lega, che ringrazio sempre per la disponibilità, non è facile trovare spazi soprattutto in questo periodo particolarmente caldo della vita politica e amministrativa a livello statale italiana e quindi si rubano momenti importanti. Cercherò di non rubare molto tempo e vado subito alla prima domanda. Abbiamo una problematica molto sentita nella nostra provincia che riguarda per la verità anche altri territori. Sono i piccoli comuni e la loro difficoltà ad esistere, peraltro Mirko Badone è il sindaco del comune di San Gregorio nelle Alpi. Di leggi o di proposte ne sono state fatte tante, ma per ora i comuni piccoli continuano a soffrire e la prospettiva non è delle più felici. C'è qualcosa di nuovo che si muove? Sì, c'è qualcosa di nuovo. Era uno dei miei punti della mia campagna elettorale. Avevo tre priorità grosse, che era naturalmente l'autonomia del Veneto ed era proprio la questione di diminuire la burocrazia nei piccoli comuni e trovare le risorse necessarie per poterli fare andare avanti. Cosa abbiamo fatto in questo periodo? Abbiamo fatto una cosa intanto un po' strana per i lavori parlamentari. Noi del gruppo EA, siccome siamo come parlamentari un gruppo che ha molti sindaci al loro interno, siamo in 31 sindaci, tutti nel nord, quindi ci capiamo anche meglio nelle discussioni. Abbiamo creato un gruppo, una cosa estremamente semplice, un gruppo WhatsApp e un gruppo che si trova con cadenza ogni settimana, ci troviamo la sera per discutere di quelli che sono i problemi dei nostri comuni. E la cosa che mi stupisce è che i problemi sono gli stessi per tutti. Le cose più banali, l'asfaltatura che manca, la burocrazia tremenda che ci blocca in tutte le maniere e stiamo cercando le varie soluzioni. Per la prima volta quest'anno nella legge finanziaria sono riusciti a inserire, credo anche merito a questo gruppo che avevamo costituito, un finanziamento 400 milioni di euro destinato proprio ai piccoli comuni, quindi quelli sotto i 15 mila abitanti. Sono soldi che sono stati istanziati con la finanziaria, già disponibili con l'unico handicap, se si può chiamarlo handicap, che bisogna utilizzarli subito, in maniera che non rimangano là. Ecco, però questo va a scontrarsi con l'altro problema che è il generale di tutti, che è la burocrazia. Molto spesso chi ha anche le intenzioni, i progetti, non riesce a fare un progetto in un anno, quindi non è che si rischia di dare una possibilità che di fatto non esiste? Dobbiamo risolverla. È il nostro argomento principale, quello di disnellire. Quando si parla di semplificazione siamo tutti con l'orecchia molto attente, perché quando si è parlato di semplificazione negli anni precedenti c'è sempre stato un aggravio. E noi su questo abbiamo detto se è semplificazione deve esserci, anche per, come dicevamo prima, per far riuscire a usarli questi soldi qua, perché è proprio il problema che ho fatto io nel Comune di San Gregorio, adesso abbiamo i soldi, abbiamo le risorse e non riusciamo a spenderle. Questo perché non avete un cofinanziamento, o proprio perché le procedure di ITER sono molto faraginosi? Talvolta per il problema del cofinanziamento, ma molto di più perché l'ITER ci impegna, impegna tantissimo gli uffici e non riusciamo a sfruttarli. Senta, si inserisce in questo anche questa normativa che spingerebbe alle fuzioni dei Comuni, quindi questa sarebbe un'iniziativa per rallentare questo suggerimento? Certamente sì, fermo restando che io sono a favore della fuzione dei Comuni. Come ho detto sempre, va valutato caso per caso. Ci sono dei casi dove la logica porta alla fusione, altri casi che magari bisogna pensarsi un po' di più. Sempre restando nel tema di carattere politico, la legittima difesa. La Lega ha portato avanti questo provvedimento, manca ancora un passaggio, ma dovrebbe essere effettuato proprio in questa settimana, naturalmente ricordo che siamo in registrazione, quindi magari il fatto è avvenuto. Vi ha portato molte simpatie, e lo si evince dai risultati elettorali, ma anche molte critiche. Qual è il punto forte di questa vostra proposta, e qual è, se c'è, secondo il suo punto di vista, un punto debole? È uno degli argomenti a cui tengo di più, perché ho avuto la soddisfazione di seguirlo, e di portarlo avanti insieme a tutto il gruppo. Per noi è una cosa, io non parlo mai generalmente di diritti, io preferisco sempre parlare di doveri, per il mio modo di pensare. Però questo è il caso in cui io dico che la legittima difesa, prima di tutto, è un diritto, e anche un dovere. Uno a casa propria deve avere il diritto di potersi difendere. Poi nessuno dice che si deve sparare a chi entra in casa, ma il diritto di difendersi deve essere garantito. Ma l'abbiamo visto nelle cronache degli ultimi anni, con il successo, i casi che ci sono stati. E oltre che la legittima difesa, cosa è importantissima che molti non sanno, è che è stato tolto quello che è il risarcimento per chi entra in casa. Che ricorda che comunque non è un sanno, ma è uno che sta commettendo un reato. Quindi se un cane entrerà nel giardino, come è successo, e morde il cosiddetto ladro, il padrone non sarà più ritenuto colpevole di dover risarcire anche il danno. Sì, ma è un passaggio che ha sempre fatto dal capo molte persone. C'è una piccola problematica. Un conto è fare una legge, in conto è l'interpretazione della giustizia e della magistratura. Avete chiarito questa questione? Allora, il passaggio ci sarà in ogni caso. Però quello che è fondamentale è che uno non debba andare per forza a processo quando ha subito un furto a casa propria. Qualsiasi cosa succeda. Si porta con sé anche il diritto ad avere un porto d'armi? No, non c'entra niente. La questione acquisto armi e porto d'armi è una cosa che non c'entra niente col decreto. Chi ce l'aveva prima ce l'ha anche adesso e non cambia assolutamente niente da quel punto di vista. Senta, è ancora entusiasmo da spendere per quanto riguarda l'autonomia. Doveva essere promulgata o comunque fare un passo avanti a novembre. Poi con spostamenti continui intanto siamo arrivati a marzo e ancora nulla si vede. Allora, penso sia chiaro a tutti che la cosa non poteva essere una cosa semplice. No, è evidente che la cosa era complessa e andava ed è analizzata in molti dettagli. Il Veneto ha chiesto le 23 materie e vuole portarle a casa tutte le 23. il processo sta andando avanti con le difficoltà che ci sono anche nella compagine del governo. È chiaro a tutti che adesso come è formato questo nostro governo che è formato da due forze una che ha più voti verso il sud e un'altra che ha più voti verso il nord e qua si innescano qualche conflitto in questo senso. Senta, fate l'uomo dei 5 stelle e per la vita mi pare state pareggiando i conti per quanto riguarda voti anche sud. Almeno le ultime elezioni questo stanno dicendo. Diciamo che siamo molto vicini anche al sud, al 5 stelle. Ma qual è la ritrosia maggiore da parte dei rappresentanti politici del sud? La paura di perdere finanziamenti perché si sa che lo sbilancio è tutto a favore del sud. Cioè, danno meno soldi per averne di più. Allora, con l'ultima finanziaria e gli ultimi provvedimenti anche quest'anno è comunque andato verso il sud un sacco di soldi. Questo dobbiamo dirlo, dobbiamo garantirlo. E sentire il capogruppo dei 5 stelle l'ultima volta la Camera che va a rivendicare che il governo sia un po' dimenticato del sud questo fa rizzare un po' le orecchie. Questi sono i discorsi che sono molto molto terra a terra e fanno capire anche le difficoltà che possiamo avere. Ma il vostro rapporto con i rappresentanti dei 5 stelle perché si sa che a livello alto bisogna sempre trovare un compromesso bisogna tacitare le voci eclatanti. Ma voi, insomma, che siete i soldati delle varie forze come vi comportate? Vi guardate in Cagnesco? No, in Cagnesco no, assolutamente. Siamo due cose diverse e questo l'abbiamo detto ancora e abbiamo proprio due mentalità diverse però la politica è fatta anche di questo anzi, deve essere fatta di compromessi e quindi noi il compromesso cerchiamo di trovarlo e fino ad adesso l'abbiamo trovato. È chiaro che però davanti a tanti no, no, no qualche dittà in più la troviamo, insomma. Senta, riguardo allo stile che ha il vostro leader che ha Salvini si sa che chi fa parte di una formazione viene anche identificato un po' con il leader. È cambiato l'approccio nei suoi confronti da parte magari dei suoi stessi cittadini che prima la vedevano magari una persona mite disposta al confronto adesso magari è diventato anche lei un simil Salvini determinato questo si fa questo dico e questo voglio. È una curiosità. Sono orgoglioso di essere un simil Salvini di questo fuori dubbio. Ma c'è questo atteggiamento da parte della gente? No, io non lo riscontro anzi vedo che la gente sempre di più sta seguendo Matteo Salvini che riesce così a convincere e la gente lo segue perché probabilmente si è anche resa conto che finalmente per una volta lo che si dice si cerca di farlo. Ma lei viene anche individuato come uomo forte intendevo questo un uomo solo al comando insomma. Ma no, non sono solo al comando siamo tanti che lavorano per i nostri ideali. Senta lei voi come lega avete fatto una proposta mi pare che siete voi a poi in caso a me mi correga quello del riproporre l'educazione civica che era una delle materie preferite da noi perché praticamente non si studiava a scuola e si rischia che succeda però la stessa cosa la proposta è quella di reinserirla dal prossimo anno ma poi che valore avrà questa educazione civica avrà il valore che ha o la dignità che ha la matematica l'italiano e tutte le altre materie oppure vabbè dai mettiamola dentro che qualcosa dobbiamo dire dobbiamo fare. Noi ce la ricordiamo l'educazione civica non so neanche da quanti anni si è stata tirata via a dire la verità è una cosa comunque che posso dire da quest'anno ritornerà nelle scuole ed è una cosa che a mio giudizio è fondamentale per cercare di insegnare un po' di senso civico anche ai nostri ragazzi come anche la questione del riportare è il servizio di leva cambio argomento trova inspiegabilmente delle resistenze che io non condivido non capisco però questo va nel senso di insegnare un cosa ai giovani per maturare. arriva questa legge sull'educazione civica anzi questa è una nuova materia per il prossimo anno voi fate delle iniziative lei poi in modo particolare come rappresentante del territorio ha invitato gli alunni della terza media di Santa Giustina a fare una cosa veramente curiosa la gita scolastica per me non c'è le grotte di Postumia Aquileia o comunque le solite gite invece la fate a Montecitorio è una bella iniziativa Sì per me è un piacere ed è stata una soddisfazione avere che avrò perché ancora non ci sono ma ma aver organizzato questo insieme all'istituto comprensivo di Santa Giustina e a maggio le quattro classi terze della scuola media faranno la loro gita scolastica fra le tante cose che andranno a visitare avrò il piacere di portarli all'interno di Montecitorio e speriamo che ci siano anche magari l'attività di aula in corso così vedono come funziona questa è la domanda perché si rischia di portare dei ragazzi per insegnargli come funziona il meccanismo democratico e poi arrivare a trovare un'aula vuota cosa che non è assolutamente questo può succedere comunque a Montecitorio c'è un sacco di altre cose da vedere perché insomma il palazzo è grande ci sono delle opere d'arte c'è tanta roba da vedere e quanti saranno questi ragazzi una cinquantina? 52-53 sarà sicuramente un'esperienza molto interessante sempre parlando di educazione civica io impacchetto anche la prossima domanda in questa idea educazione civica anche interessarsi e interessarsi vuol dire fare politica e fare politica bisogna saperla fare voi avete lanciato un'iniziativa interessante peraltro non è nuova ne hanno fatte anche altre formazioni quella della scuola di formazione politica sta andando bene? è andata benissimo ci sono state cinque cinque elezioni diciamo così partecipate da gente che si sta avvicinando alla politica e questo è importante perché se vediamo come è l'andazzo diciamo c'è sempre sta voglia di non di non seguirla più sta politica è un po' stufato tanto è vero che abbiamo delle difficoltà a trovare per le prossime amministrative chi si candiderà a fare i sindaci a fare i consiglieri comunali a fare gli assessori questo non è un bel segnale quindi bisogna cercare di svegliare le anime e soprattutto capire che la politica può anche essere cambiata può essere cambiata ma è quello che fa girare comunque il sistema perché senza politica senta c'è una questione un po' come si può dire fastidiosa nella nostra provincia da molti anni non c'è il presidente dell'ente parco e si sa che è di nomina governativa erano stati fatti tre nomi il più diciamo logico sarebbe stato Franco Zetta che è da sempre all'interno dell'ente parco io ho letto ma anche devo confermare a lei che lo stracismo nei confronti di Zetta è proprio della Lega è vera questa cosa qui? no allora posso dire tranquillamente di no io avevo chiesto all'inizio all'onorevole Dincà quello che rappresentava che rappresenta qua in provincia il Movimento 5 Stelle di riuscire a fare presto questa era la prima cosa che avevo chiesto perché l'importanza dell'ente parco è molta qua nella nostra provincia e dovevamo risolverlo per una serie di questioni era importante che ci fosse anche di immagine anche di immagine le cose si sono allungate finché è venuto fuori la questione di famosi tre nomi condivisi dai sindaci a quel punto io leggo i giornali i nomi li abbiamo fatti ma ufficialmente nessuna proposta è venuta dal ministro l'ho visto la settimana scorsa l'ho fermato gli ho chiesto personalmente e anche il mio ministro ho visto che sono in commissione ambiente e non ci sono risposte quindi il nome il nome di fraco l'abbiamo fatto ma come abbiamo fatto quello di Agnoghigni e come abbiamo parlato anche di Bristot negli incontri che abbiamo fatto ma ufficialmente non è mai sono tutte tre nomi forti sono tutte tre persone ineccepibili quindi e sto nome di franco ozaietta insomma l'ho visto anche l'articolo su giornale mi ha un po' stupito perché come dico l'ufficializzazione o la proposta del nome non è mai giunta senta qualcuno amore zioso dice siccome non è l'unico parco che è in assenza di governo o comunque dell'istituzione che lo può portare avanti che ci sia una subdola e sotterranea intenzione di depotenziare queste strutture di attenzione al territorio no credo che non sia così credo che il problema sia un altro forse anche un po' più più antipatico penso che ci sia una spartizione di poltrona io adesso la dico la dico un po' grossa ma credo che questo sia il problema non siete immuni neanche voi della Lega però il vostro desiderio giustamente peraltro come si fa forse anche giustamente ma le cose una volta che si è al governo si cerca di mettere i propri nomi sui punti essenziali non è cambiato molto prima in questo senso direi di no questo è comunque il problema reale che è stato mi piace perché lei ammette l'evidente ma molto spesso in politica non si ammette nemmeno l'evidente facciamo una battuta riguardo a un tema questo si è molto interessante anche perché noi continuiamo a registrare settimana dopo settimana dati molto interessanti per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti rimane però un problema che lo stoccaggio anche del ormai minimo rimanente è sempre più complesso è stata riportata all'attenzione l'idea di fare i termovalorizzatori vale a dire delle grandi caldaie che bruciano questi residui a che punto siamo e quali sono le possibilità ammesso che sia naturalmente una possibilità da perorare di avere i termovalorizzatori se ne parlava soprattutto per il sud soprattutto per il sud dove c'è la grossa mancanza di questi impianti e dove non c'è la volontà di farli tutti sono d'accordo ma sempre nella regione vicina sempre al di là del confine ormai la tecnologia anche su queste cose ha raggiunto i livelli di sicurezza che ci mette tutti tranquilli tanto è vero che soprattutto ma anche qua in Italia ma anche al nord noi mandiamo i rifiuti in Germania a far bruciare e sono considerati un valore invece che un debito quindi con il termovalorizzatore si fa energia si può potrebbe essere fatto anche a perché ce ne sia uno anche nel Veneto nel Veneto il termovalizzatore non c'è non vorrei aver detto io una cretinata ma allora anche per il Veneto comunque anche per il Veneto abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione siamo stati con Mirko Badole che è deputato del Movimento della Lega che ringrazio sempre per la disponibilità e il tempo che ci dedica buon lavoro a lei naturalmente grazie è in commissione lavori pubblici e ambienti quindi è una commissione diciamo un po' sotto pressione in questo periodo ma da sempre grazie buon lavoro a lei grazie a voi per averci seguito e buona serata buona serata grazie a tutti